Buongiorno e bentrovati in questa edizione di mattino 6 di sabato 11 marzo 2017, un'ora circa in nostra compagnia per sfogliare i quotidiani locali ma anche per vedere le prime pagine delle testate nazionali di quest'oggi. Iniziamo subito la nostra rassegna con le quattro edizioni del centro, le prime pagine. Così ho sventato l'omicidio alle poste, siamo chiaramente sull'edizione aquilana del centro. Lecce di Marsi, aggressione alla direttrice, parla l'impiegato eroe. E poi ancora leggiamo sotto la testata fatti nazionali, Renzi basta con la paura ridare speranza al paese, l'ex premier riparte dal lingotto. Poi la tragedia in autostrada, ponte crollato, si indaga per omicidio colposo. Poi all'Aquila, piazza d'armi, cantiere al via, tra tre mesi a Campotosto il ministro Orlando visita le zone distrutte dal terremoto. Poi la fotonotizia che vediamo, mille in piazza, scuole sicure, studenti, docenti e genitori alla manifestazione del liceo Cotugno. Poi di spalla i dati 2016 del rapporto Istat in Abruzzo, 5 mila occupati in più. Ma la priorità resta il lavoro per i giovani, scrive l'economista Giuseppe Mauro. Poi contenzioso nella regione, Corecom, Telefonia e Pay TV, 3 milioni di risarcimenti. Politica in Abruzzo, sinistra italiana in massa nel nuovo partito di Bersani. In basso il bimilenario del poeta Ovidio, un anno d'arte e cinema su Il Sipario per gli eventi dedicati all'autore. Poi Avezzano, Bebecinesi e Parti Gemellari, due record. Edizione di Chieti, auto incendiate, paura allo scalo. L'ombra del piromane dietro l'ennesimo rogo sotto i palazzi. La fotonotizia, Clelio, l'addio in nero verde. La barra di Spano salutata all'Angelini dai tifosi della curva. A letto Palena, schiacciato dal trattore davanti al figlio. E poi ancora per la cronaca giudiziaria. Colasante, la Hasle, mi doveva cinque anni di lavori. E poi ancora in basso di Lello, non evita il processo. Niente perizia psichiatrica per l'omicida di Italo Delisa. Lanciaro Vasto, accordo alla Conad, salvi i lavoratori. Edizione Terramana, giovane colpita dalla meningite. Pietra Gamela ricoverata al Mazzini e curata in tempo si salverà. E poi il ritorno dell'uomo Plasmon nella fotonotizia. La raia Giulianova per lo storico personaggio di Carosello. I danni della neve, telefoni muti, la team nega gli indennizi. Atri, rifugiato picchia agenti, arrestato e poi si sente male. In basso, ad Albadriatica, Sagre, niente giorno in più. Il comune dice no alla richiesta delle associazioni. E poi ancora la leggenda, la leggenda è Karim Abdul-Jabbar. L'Abruzzo abbraccia Jabbar, mito del basket. E poi ancora questa è l'apertura dell'edizione pescarese del centro. Mercatino etnico, ok, tra le polemiche. Sarà pronto a Natale, ma Confcommercio minaccia. Chiederemo i danni. Ecco qui la fotonotizia al centro, il libro dell'amica del volo. Ileana, 12 anni, racconto una mia vita diversamente uguale. A Montesimano scoperta un'altra centrale di griffe false a Pescara. Trovate i soldi per le buche di 10 strade. In basso, per lo sport, la trattativa per la cessione della Pescara Calcio. L'offerta non convince Sebastiani. Iannascoli ci prova con due proposte. Il presidente risponde, valuterò. E poi oggi l'incontro con Pescara che abbraccia, come detto, il mito del basket. Karim Abdul-Jabbar. Avanti con la prima pagina del messaggero Abruzzo. Anche qui la medesima apertura sul mercatino etnico. Il mercato che divide Pescara. Via libera agli ambulanti etnici alla stazione. Alessandrini, tutto all'insegna della legalità. Il voto, nonostante tre diffide del centro-destra, e poi l'ombra della camorra. Sull'attuale bazar sotto la testata. L'Aquila, Cotugno, studenti in corteo. C'è in gioco la nostra pelle, dicono. Teramo, ragazza colpita da meningite, scatta l'allarme vaccinazioni. E poi l'evento. Jabbar, la leggenda del basket. Oggi a Pescara, ma da scrittore. L'appuntamento è all'Aurum nel pomeriggio. Mobilità di media da tutta Europa per incontrare una delle icone mondiali dello sport. Di spalla, vi adotti in attesa di manutenzione. Strada dei Parchi non può operare. Finanziamenti privati per i lavori. Il Ministero dei Trasporti non ha ancora dato l'ok. E poi la foto a centro pagina. Pescara, ecco l'offerta di Iannascoli. Il socio vuole rilevare l'intero club. Sempre in taglio medio, trattore si rovescia. Morto il papà, il figlioletto in salvo. A Letto Palena, i due erano sul mezzo agricolo. Il minore ferito grave, ma non rischia la vita. Poi a Lanciano, lenzuola d'oro Colasante nega. La prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Trovato il virus alla casa di riposo. In attesa dell'autopsia sull'ottantenne deceduto, la Asla ha trovato l'origine dell'intossicazione degli ospiti. Giulia Nova, pasticcio scuolabus, nuovo stop al trasloco nella scuola media Pagliaccetti. Poi la foto al centro è meningita. E' confermato il caso anticipato proprio dal quotidiano La Città. Di spalla, Corecom indennizzi da maltempo. Telecom non collabora. Poi Alba Adriatica al minimarket. Rubate anche frutta e verdura. Sempre in basso leggiamo Silvia. Provata la variante al piano regolatore. Passata con i voti del PD. La sinistra lascia la maggioranza. Poi per lo sport, Lega Pro. Teramo, Ugolotti con il dubbio in mediana. Amadio o Carraro. E poi ancora per la politica. Teramo, il rimpasto sarà ufficiale entro martedì 21 marzo. E per la segreteria del PD, Renzi e Orlando. Ecco i due schieramenti. Ora andiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali. Vediamo quali sono i temi maggiormente affrontati. Iniziamo dalla prima pagina della stampa. La sfida di Renzi. Basta. Ecco, forse c'è un problema. Vediamo di ripristinare. No, non ci riusciamo però. Vediamo lo stesso. La sfida di Renzi. Basta avere paura. L'ex premier riparte dal lingotto. Il futuro non deve spaventare. Dettiamo noi l'agenda. L'annuncio di una scuola del PD per formare i nuovi dirigenti. Parla speranza. Solitaria. Tocca a noi ricostruire la sinistra. E poi queste foto. La stampa scrive i nostri medici eroi che non si fermano mai. Avanti ancora con il fatto quotidiano. Il titolo d'apertura. Renzi come B. Inteso come Berlusconi. usa gli indagati suicidi contro i magistrati vivi. Al lingotto, plagio, anche il blog a Grillo e la scuola politica a Letta. E poi ancora sempre sul fatto quotidiano, sulla prima pagina, ma sotto la testata. Confindustria e clissi di sole 24 ore, soldi spariti e vendite taroccate. Dieci indagati, fra cui il direttore Roberto Napoletano. E poi, in taglio medio, i giudici mandano a casa la presidente coreana, a Seoul. Dunque in Corea del Sud, fatale lo scandalo sulla corruzione. Prima pagina del giornale. Legittima difesa. Uccide il ladro. Amen. Aggredito dai rapinatori nella sua osteria. Un ristoratore, dirò di spara, rischia l'omicidio volontario, ma il paese è con lui. E poi la foto al centro. Napoli vietata per Salvini e il sindaco sta con i violenti, ma il Viminale difende il leghiste. Poi, sempre la vicenda che abbiamo visto in precedenza, sul sole 24 ore. Indagati i vertici e il direttore. Copie digitali taroccate. Andiamo avanti con la prima pagina di Avvenire. Unione Europea insieme divisi. A Roma nascerà un'Unione Europea a due velocità, Juncker, ma non ci sarà una cortina di ferro. Il Consiglio Europeo si chiude senza un documento finale e con il no di Gentiloni, che media e indica quattro priorità da perseguire. Avanti con il tempo. Noi stiamo con Mario, ristoratore di Lodi, uccide il ladro sorpreso a rubare nel locale. Il PM lo indaga per omicidio colposo. La politica e l'Italia divise. Di spalla, tensioni per il comizio del leghista. Salvini batte i teppisti e va a Napoli. La prima pagina del messaggero, bonus 80 euro. Così si cambia il piano del governo, pronti a intervenire anche per disinnescare la mina dei contratti. Il benefit potrebbe diventare detrazione d'imposta. Tetto fino a 32 mila euro di reddito. E poi sotto la testata per lo sport, la crisi. Roma, un crollo annunciato e Spalletti rinvia ancora il rinnovo. La foto al centro, Ramesse II, riemerge dal fango del Cairo. Eccezionale il ritrovamento di una colossale statua del Faraone. Ministro Fedeli, riformiamo la buona scuola con gli insegnanti. Novità su supplenze, valutazioni docenti, chiamata diretta e mobilità. Avanti con la prima pagina di Libero. Se spari al ladro, delinquente sei tu. La legge sulla legittima difesa aiuta i criminali. In piena notte tre criminali stranieri rompono in una osteria. Il proprietario spaventato apre il fuoco e ne uccide uno. Rischia 30 anni di galera. Il ministro Costa bisogna poter reagire. Intervista al ristoratore. Non si sono fermati al mio alt. Non avevano nessuna paura. E poi al centro, faccia a faccia con Flavio Briatore. I poveri non creano posti di lavoro in Italia. Non torno neppure con la flat tax. Avanti con la prima pagina di Repubblica. Renzi riparte dal lingotto. No alla sinistra della paura. Serve lavoro. Non reddito di cittadinanza. Critica l'Unione Europea della burocrazia. Sotto la testata. Il fatto di cronaca a Lodi. Il ristoratore uccide un ladro. Il paese è con lui. Giusto difendersi. E i PM l'accusano di omicidio volontario. Possiamo andare avanti con il secolo XIX. Renzi scommette sul futuro. È la nostra sfida. La paura è l'arma degli altri. Speranza. Aria stantia. L'ex premier riparte alla conquista del PD. Piattaforma online e scuola per dirigenti. Poi visto che questo è il quotidiano principale di Genova. Possiamo leggere estate di un giorno. 28 gradi in Liguria. Il vento caldo fa impennare le temperature. Il mattino. Basta con la sinistra della paura. Renzi riparte dal lingotto. Non siamo reduci ma eredi. E stiamo con Gentiloni. E poi sotto la testata. Salvini a Napoli. Minniti dice sì. No della mostra d'oltremare. Ma il comizio si terrà. Andiamo a vedere ora la prima pagina dell'unità. Il futuro è la nostra sfida. Dal lingotto parte la corsa di Renzi. Verso la segreteria. Critiche ai rancorosi. Da talk show e sul PD. O da una visione per i prossimi dieci anni al palese. O non serve più. Sì al doppio ruolo. Poi la prima pagina della verità. L'Unione Europea ci prende in giro i numeri che smascherano l'invasione degli immigrati. Indagine rivela come sono stati disattesi gli accordi con l'Italia sbandierati in sede europea. La redistribuzione degli immigrati giunti qui è una barzelletta. La Germania doveva prenderne 28.000 e ne ha accolte appena 1.300. Poi la foto al centro con il direttore del Sole 24 ore. Scandalo al sole. Indagato il direttore napoletano. Fate presto. Poi di spalla a casi umani. Feltri perde il 37% delle copie. Perciò è nervosetto Feltri, direttore di Libero. Lasciamo i quotidiani nazionali. Torniamo a quelli locali. Andiamo a sfogliare le pagine del centro. Pagina 2 e 3. Abruzzo e lavoro. Ripresa al rallentatore. Recuperati 6.000 posti sale l'occupazione, soprattutto tra gli over 55. Scende il tasso di disoccupazione in Italia. Si superano i livelli del 2009 con quasi il 65% di persone attive. Nella regione gli occupati sono 485.000 rispetto ai 479.000 del 2015. Ma siamo lontani dai 511.000 del 2008, l'anno in cui è iniziata la grande crisi finanziaria. Per Susanna Camusso della CGL non c'è il rapporto tra i 18 milioni di euro spesi per gli sgravi contributivi e il calo di appena 0,2 punti del tasso nazionale di disoccupazione. Poi in basso un film racconta la crisi in Val Vibrata. In 8 anni la Silicon Valley Terramana ha perso due terzi degli addetti, soprattutto nel tessile. Le reazioni cauti sindacati, le imprese non hanno certezze sul futuro. Spina della CISL dice che sono i grandi gruppi a fare i numeri e Lombardo della Will aggiunge che c'è ancora molto cammino da fare. I voucher positivi per le famiglie ma non ci sono dati degli effetti sull'occupazione. E poi ancora per la politica, Abruzzo in movimento. Sinistra italiana sceglie in massa articolo 1. Ufficializzate le prime adesioni al movimento lanciato da Speranza e Bersani. Nel nuovo soggetto molti amministratori. Siamo per una cultura di governo. Con Fassina vanno Liccheri e Santroni. Poi in taglio medio Roccarasso celebra il battesimo dei moderati da NCD a una nuova casa per il centro. Chiavaroli distinti e distanti dalla destra estrema e populista. E poi in basso Forza Italia punta sul tema della sicurezza. Oggi e domani in Abruzzo il gazebo del Security Day pagano in piazza per raccogliere idee dai cittadini. Avanti ancora con la pagina. Torniamo sulle pagine locali dopo quelle nazionali. Corrego Mabruzzo, lite, utenti, compagnie, risarcimento per 3 milioni. Telefonia e pay tv, bilancio 2016, 5600 procedure di conciliazione avviate. Il presidente Filippo Lucci, numeri in aumento. È stato un anno da record. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato ieri con la nostra redazione. Il Corecom è stato attivo per quanto riguarda i disservizi dovuti al maltempo, l'ondata dei maltempo di gennaio. Certo, il 100% delle richieste che sono avute al Corecom sono state immediatamente affrontate e sono state riattivate tutte le linee telefoniche che erano collegate ai problemi del maltempo. Entro le 48 ore, così come la legge dice, ovviamente molte amministrazioni non hanno usufruito di questo servizio, molti cittadini e quindi noi invitiamo sempre a rivolgersi al Corecom per poter usufruire di questo servizio. Ma vogliamo anche dire che gli indennizi che stiamo producendo attraverso le conciliazioni di questi giorni proprio per i danni del maltempo stanno vendendo alcune compagnie telefoniche molto disponibili. Voglio ricordare Vodafone e Fastweb, ma con Team, la vecchia Telecom, diciamo che in realtà fa molta resistenza a riconoscere i danni. Questo è veramente spiacevole, soprattutto per quello che ha subito l'Abruzzo e ogni singola famiglia, ogni singolo cittadino rispetto agli servizi, che non sono giustificabili dal maltempo. Sono anche colpa di chi non ha saputo gestire l'emergenza e soprattutto essere pronti nel momento delle difficoltà. Ecco, l'Abruzzo è stato investito in un'ondata eccezionale di maltempo, non solo di servizi nelle telecomunicazioni, ma anche nell'energia elettrica, questi probabilmente anche molto più gravi. Assolutamente, quello è un problema centrale, un problema a cui l'Enel dovrà rispondere sicuramente. Noi ovviamente non abbiamo una competenza diretta in questo senso e comprendiamo anche le difficoltà delle compagnie telefoniche. Quando non c'è la luce, poi è difficile dare un servizio. Questo non vuol dire che nel momento in cui il cittadino però si siede al core, parlando con la compagnia per produrre un danno e ottenere un risultato, non si può essere rigidi. Bisogna essere molto disponibili perché l'utente, il cittadino, ha già subito molto nella fase dell'emergenza. Cronaca di Pescara, l'area per i senegalesi sia al mercatino etnico sarà pronto a Natale. Ripartono i lavori nel tunnel, confcommercio verso il ricorso. E poi un'altra centrale del falso scoperta a Montesivano, blitz della squadra mobile nel ghetto dei senegalesi di via Ariosto, l'appartamento trasformato in fabbrica di abiti e scarpe contraffatti. Scoperte le matrici di ottone per taroccare i marchi delle grandi griffe della moda. E poi ancora gli affari con la camorra, saldati con ricariche sulle carte poste pay, scoperti gli accrediti segreti per saldare i carichi di Hogan falsificate, le coordinate via SMS. Poi abbiamo famiglie da mantenere, l'intervento delle fiamme gialle non blocca il commercio sull'area di risulta. Proseguiamo sempre con la cronaca a Pescara. Violento pugno alla testa, condannato a quattro anni. Arriva la sentenza per il pestaggio del 2014 a un ragazzo in via dei bastioni. La vittima avvierà ora una causa civile e chiederà un risarcimento di un milione. E poi Enzo, non sarai mai dimenticato, i funerali di Enzo la Vipera, personaggio storico della città di Pescara, conosciutissimo a San Cetteo, l'addio alla Vipera. Il sacerdote godeva della vita un uomo allegro. E poi ancora, sempre a Pescara, il comune ripara le buche lavori su dieci strade groviera. Del vecchio annuncio, opere per 590 mila euro il via ai cantieri tra due settimane, previsti degli interventi anche in via Tiburtina, via Firenze e via del circuito. Poi, vongolare bloccate da agosto, protesta davanti alla regione, in particolare protesta dei lavoratori aderenti al Cogevo. Ascoltiamo la loro voce in questo servizio. Fermi da fine agosto i pescatori di vongole aderenti al Cogevo chiedono alla regione di poter tornare in mare e di poter pescare in condizioni idonee dopo le restrizioni apportate in Abruzzo al settore. Questa mattina hanno organizzato una manifestazione di protesta davanti alla sede dell'assessorato regionale alle politiche agricole e alla pesca per chiedere risposte alla regione in merito ai fondi da destinare ad un settore che sta morendo. In Abruzzo sono 84 le vongolare che ricadono nel tratto di mare fra il Terramano e il Pescarese. Gli amici pescatori per pagare le tasse sono italiani, per versare i contributi sono italiani, per tutti i diritti sono italiani. Poi quando si tratta dei benefici, come diceva giustamente l'amico, per poter lavorare mettiamo i vingoli. Abbiamo fatto il parco marino nel Cerrano. Bene, d'accordo. Mi si spiega da parte della regione e da chi. Perché con il parco marino avevano fatto il triangolo, Silvi, Roseto, Pinedro, i vongolari possono andare e quelli di Giulianova, Albadriarico, Tortorello e Martinscorro erano fuori. Il prodotto è piccolo, non c'è prodotto. Poi dobbiamo sottostare le leggi comunitarie nuove che ci impongono altri. Sì, ma ci impongono di montare a bordo uno strumento di identificazione in mare. Chiediamo che la regione ci dia una mano, che ci dia delle sovvenzioni, non so. La soluzione la devono trovare loro, la deve trovare il signore del parco, la deve trovare chi ci ha atterrato. Proseguiamo sempre con la cronaca a Pescara. Droga fino a Riccione, pescarese arrestato in casa a 120 mila euro. Walter Luciani è accusato di essere il corriere che portava la coca sulla costa romagnola. Con lui altri tre arresti. E poi in basso attiva altri tre ex da assumere. Accolti i ricorsi contro la società dei rifiuti, inviata subito una diffida. Così si è pronunciato il giudice del lavoro. E poi la storia, il libro di Ileana. 12 anni, l'amica del volo, si racconta. La piccola di Cappelle sul tavo che incontrò al centro i suoi cantanti preferiti. Ha raccolto i suoi pensieri da diversamente uguale. Passo la mia vita a sognare. Pagine di Montesilvano. Le nuove tariffe per il Palacongressi. L'affitto costa 2000 euro al giorno. La giunta Maragno stabilisce i canoni. La struttura concessa gratis a enti religiosi, scuole e associazioni di volontariato. È possibile noleggiare anche una stanza sola. Poi avanti a Francavilla. Nell'area metropolitana auto senza assicurazione scattano 800 multe in tre mesi. Raffiche di sanzioni grazie a una telecamera speciale. I vigili scoprono 75 macchine senza revisione e automobilisti senza patente. Poi a San Giovanni Tiatino il prefetto va in consiglio. I controlli ci sono. Città sicura. E poi sempre a Francavilla. Palazzo Sirena. Demolizione vicina. Approvato il progetto esecutivo. Ora il comune sceglierà la ditta. Chiuso l'ufficio per la ricostruzione. Qui siamo sempre nella provincia di Pescara. Si fermano le attività nella sede di Cugnoli. Non ci sono i soldi per pagare i consulenti. E le pratiche restano bloccate. E poi per la cronaca. L'operaio caduto alla Brioni resta grave. L'incidente sul lavoro appena. L'UGL contesta l'azienda. Mai accolti i nostri rilievi sulla sicurezza. Pagine di Chieti e L'Aquia. Andiamo su quella di Chieti. Fiamme nella notte. Rogo di auto. Torna la paura allo scalo. L'ombra del piromane. Dietro l'ennesimo incendio. Sotto i palazzi di via Amiterno. E il quarto caso in pochi mesi. Di spalla Clelio. La bara applaudita allo stadio. Lo stadio Guido Angelini di Chieti. La bara è quella di Clelio Spanò. In dettaglio medio. Di Lello. Niente perizia psichiatrica. Per i giudici non basta la depressione per giustificare l'omicidio di Delisa. E poi l'incidente mortale a Letto Palena. Schiacciato dal trattore davanti al figlio. Pagina Aquilana. Così ho sventato l'omicidio alle poste. Parla l'impiegato che ha salvato la direttrice. L'ho sentita urlare. Sono piombato sull'aggressore. L'ho disarmato. Tutto questo nel comune di Lecce e dei Marsi. E poi bagaglio sospetto fatto brillare all'alba. Falso allarme alla fermata degli autobus extraurbani davanti all'hotel Amiternum a L'Aquila. E poi in basso Orlando nelle case devastate di Campotosto. Il ministro della giustizia visita l'alto a Terno. Ho chiesto un segretario comunale per gli uffici sguarniti. E andiamo a chiudere con la pagina di Teramo. Infezione batterica. Ragazza ricoverata per meningite. Una 27enne di pietra camela curata in tempo. Le sue condizioni non sono gravi. Farmaci a chi è stato in contatto con lei. E poi verifiche su Ponte San Gabriele. scatta l'allarme per l'allargamento di un giunto. L'Ana si interviene subito. Ponte San Gabriele a Teramo. E poi di spalla il giuliese Gabriellino. La vita dell'uomo plasman in uno speciale di Rai Sport. Prima di andare in pubblicità andiamo sulla pagina Cultura e Spettacoli. perché ieri c'è stata la presentazione del cartellone di eventi dedicato al bimilionario della nascita di Ovidio. Arte, letteratura e cinema nel nome di Ovidio. Nella pazia di Santo Spirito al Morrone. Si è alzato il sipario sulle manifestazioni dedicate allo scrittore di Sulmona. il sindaco Casini e il nostro passaporto d'Alfonso. Un monumento per ricordare questo evento. Noi ci fermiamo con la prima parte di mattino 6. Poi rientreremo per vedere il messaggero Abruzzo, la città, le pagine dello sport e altri servizi. Riprendiamo con la rassegna stampa di mattino 6. Siamo sul messaggero Abruzzo. La politica MDP raggiunge quota 500. Raffica di adesioni tra consiglieri e assessori. Da Tommaso Di Febo a Leone, Masciocco, Cianci, Caporale, Forza Italia, punta sulla sicurezza. Oggi gazebo nelle piazze. Allora diamo spazio alla politica e vediamo questi due servizi. Noi stiamo dando vita ad un movimento che a livello nazionale si articola in tante posizioni. C'è la sinistra classica, tradizionale, che io rappresento. Ma ci sono anche molte posizioni vicine all'ulivo. La nostra non è un'operazione di palazzo. Noi facciamo appello ai giovani di prendere in mano questo movimento, di costruire in ogni comune, in ogni realtà, una officina, un circolo, un movimento, un cantiere che dia vita ad un nuovo centro-sinistra. Una critica al PD del Renzismo, ma anche alla scelta radicale di sinistra italiana, che va nella direzione contraria alla ricomposizione della sinistra e alla formazione di un partito di governo. Sono queste le motivazioni che hanno portato alla scissione all'interno dell'ormai defunto SEL. 20 dei 28 delegati abruzzesi intervenuti al congresso fondativo di sinistra italiana a Rimini hanno scelto di aderire al nuovo soggetto politico chiamato Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista, che a livello nazionale conta nomi pesanti come quello dell'ex segretario del Partito Democratico, Pierluigi Bersani. In Abruzzo ha sottolineato l'ex segretario regionale di SEL, Tommaso Di Febo, il grosso del partito abbandonato sinistra italiana, nomi di spicco come quello del deputato Gianni Melilla e del sottosegretario alla presidenza della regione Abruzzo, Mario Mazzocca. Quest'ultimo sottolinea la necessità di dialogare con il PD e di confrontarsi con il governo e rassicura sui rapporti di forza all'interno della maggioranza che sostiene il governatore D'Alfonso. E quindi le tematiche e tutto ciò che noi porteremo avanti saranno quelle, saranno le stesse, quelle tematiche legate allo sviluppo sostenibile, al tema della disoccupazione, al tema del reddito minimo, insomma tutte quelle cose che noi abbiamo cercato di portare avanti in questi anni e che adesso attendono comunque una risposta sempre più immediata. Su quello ci confronteremo anche, come dire, serratamente con la maggioranza, se del caso facendo valere le nostre ragioni. Forza Italia ha fissato in cinque punti il programma per un'Italia più sicura, nuovi accordi internazionali con la Libia e gli altri paesi dell'altra sponda del Mediterraneo per bloccare le partenze degli immigrati, maggiore utilizzo della marina militare e della guardia costiera contro scafisti e trafficanti di uomini, più poliziotti e carabinieri di quartiere e militari a presidio delle periferie, maggiori poteri ai sindaci e alla polizia locale ed infine istituzione di un albo delle moschee e degli imam autorizzati a predicare in Italia, oltre alla revoca della cittadinanza ai fiancheggiatori del terrorismo islamista. Nel weekend i rappresentanti azzurri scenderanno in piazza a Pescara, L'Aquila, Vasto e San Salvo per incontrare i cittadini nell'ambito dei Security Days. Diciamo che fra le priorità che il nostro movimento politico, appunto Forza Italia, ha ritenuto di mettere in campo c'è quello della sicurezza, della sicurezza nelle nostre città, la sicurezza dei cittadini, che è uno dei temi sicuramente per i quali la gente è particolarmente sensibile. Abbiamo organizzato dei gazebo nei quali i nostri sostenitori, i nostri volontari, spiegheranno ai cittadini che passeranno, consegneranno un volantino e spiegheranno quali sono le ragioni di questa iniziativa. Sempre sul messaggero per la politica, nuovo centrodestra, grandi manovre, dialogo tra NCD e moderati di Casini, a Roccarasso, Chiavaroli, tra vaglini socialisti e rappresentanti di Stefano Parisi. Passiamo alle pagine di Pescara, sarà il mercato etnico della legalità. Il Consiglio Comunale approva la delibera per le bancarelle nel tunnel della stazione, area ordinata e video sorvegliata, di fida di Forza Italia, Pescara in testa e Pescara Futura, contro il documento e contro la spesa di 250 mila euro. La nostra scelta mette fine ai danni di situazioni precarie, l'opposto di quanto ci viene contestato, dice Alessandrine. Poi false griffa anche a Montesilvano, sequestri e denunce della polizia, tolleranza zero sui prodotti contraffatti, recuperati, computer rubati nelle scuole. Poi mandami le etichette Prada, che qui vendo 10 mila pezzi, la finanza svela, la holding del clan Mazzarella senegalesi, al servizio dei vari gruppi legati alla Camorra. Poi telefoni e di servizio, l'Abruzzo in cassa, rimborsi per 3 milioni, dati shock di Filippo Lucci, presidente del Corecom. Siamo la prima regione in Italia per contenziosi e risarcimenti. D'annunzio, poesie di compleanno, le sue liriche recitate da Albertazzi, Gasman e Placido, diffuse con gli altoparlanti oggi e domani a Pescara Vecchia. Anche tanti bravi attori abruzzesi coinvolti nell'iniziativa per celebrare i 154 anni dalla nascita del poeta soldato. L'evento è abbinato a un'esposizione nella Casa Natale organizzata a cura di Lucia Arbace e Franca Minucci. E poi ancora al bagno borbonico va in scena l'Unità d'Italia. Sempre domani il Florian propone il concerto dell'AS Maddalenas. E poi in basso deve scontare 4 anni e mezzo per una rapina da 80 centesimi. Avanti ancora con la pagina Aquilana. Primarie PD, Benedetti si tira fuori. All'Assemblea, Cialente non fornisce assist sulla successione. Il presidente del Consiglio Comunale ritira la disponibilità e come da previsioni gli iscritti dem hanno incoronato. Pierpaolo Pietrucci e Americo Di Benedetto. Ore decisive, solo due nomi dunque in lizza per la scelta del candidato. Ma il partito vorrebbe una consultazione più ampia. E poi al centro Alemanno presenta il suo movimento. Oggi il Vernissage a Palazzo Fibbioni. Gli uomini dell'ex sindaco di Roma all'evento. Valerio Di Pasquale sarà coordinatore cittadino. Cotugno, gli studenti, peggio per noi. Il corteo dei ragazzi che da lunedì torneranno in aula a pettino. Non c'è posto per tutti. Concreta l'ipotesi dello smembramento. Nessuno ci garantisce che l'edificio è sicuro in caso di sisma. Adesso siamo costretti ad entrare e rischiare per colpa di altri. Tra lezioni perse in possibilità di frequentare i corsi di recupero potrebbero fioccare le bocciature. Poi per la prostituzione a Casasquillo. Dopo le ammissioni gli aquilani patteggiano a due anni. C'era sole Di Carlo. Sono tornati in libertà per la casa Alcova scoperta sulla statale. 17. E poi ancora in basso Campo Felice. Attori in canotto sulla neve. Siamo in Marsica. A Santa Croce c'è il custode giudiziario. Controllerà i beni sequestrati all'impenditore Camillo Colella per un importo di circa 20 milioni. La decisione è presa dal GIP. Il patrono ora rischia di non poter prendere decisioni per tutte le importanti problematiche relative alla società. Poi ancora pagine di Chieti. Notte di fuoco autodistrutte. Si indaga sulla pista Dolosa. Paura in via Amiterno. Fiamme alte tra le palazzine. C'è l'ipotesi piromene. Rilievi dei vigili e della scientifica. I residenti svegliati dalle esplosioni. Incenerite una Citroen C1 e una Fiat 500. Danni anche per una Panda e una Punto. Poi di Spalla Colasante stop all'assalto anche dalla Asle di Isernia. Bloccato il servizio di lavanderia affidato all'imprenditore. Ieri ha respinto le accuse dal GIP. E poi siamo nell'entroterra Frentano. Muore sotto il trattore davanti al figlio. Stavano tornando a casa per il pranzo quando si è ribaltato il mezzo con il rimorchio carico di retame. Ringhiera sfondata. Per il 41enne è stato fatale un volo di tre metri in un giardino. Il bambino di 10 anni salvo miracolosamente fuori pericolo. Il camionista aveva deciso di trascorrere in campagna il suo giorno di riposo nel comune di Letto Palena. Poi processo a dilello. Solo rito abbreviato. Nessuna perizia psichiatrica per il trentenne. Siamo sulle pagine Terramane. Ragazza colpita da meningite. Aumentare le vaccinazioni. A 27 anni ed è di Pietra Camela e ricoverata da giovedì al Mazzini. Si sta potenziando il servizio di helpdesk per quanto riguarda la profilassi alla ASL. La direttrice sanitaria Maria Mattucci. La situazione clinica è sotto controllo. Valerio Profeta, primario di medicina sul territorio. Interventi tempestivi. E poi di spalla. Falso allarme bomba. Evacuato il tribunale. Sempre a Terramo. Slitta il processo per l'occupazione ex OVS da parte degli artisti terramani. Per la politica PD lascia il segretario Angelotti. Nasce il comitato. Cammino in cammino. In basso cibo alterato in clinica. Indagati per omicidio colposo. La clinica è la clinica De Benedictis di Terramo. Poi ancora la pede collinare bloccata dall'ex Fornace. Siamo a Giulianova. La sovrintendenza non permette la realizzazione della variante alla statale adriatica. Se non verrà salvaguardato il vecchio manufatto. E c'è un altro caso aperto. Il progetto di ristrutturazione della vecchia scuola elementare Acquaviva di Viale Orsini. Altri timori per l'edificio di industria archeologica nell'area dell'ex Saddam. Poi ancora a Tortoreto. Centrosinistra e centrodestra. Solo guai comunali. Non si trova l'accordo nei gruppi. E ci sarà un record di liste. Lasciamo il messaggero Abruzzo. E approdiamo ora alla città. Andiamo a sfogliare il quotidiano della provincia di Teramo. Andiamo all'interno. Ecco qui. Siamo alla pagina dove si parla dei malori alla casa di riposo del Benedictis. La ASL scopre la presenza del norovirus. Dalle analisi dei campioni di cibo, emerse tracce del patogeno, prende piede l'idea dell'intossicazione alimentare. Due l'indagati. Si tratta di un responsabile della struttura residenziale di uno dell'azienda che si occupa dei pasti. Omicidio colposo e somministrazione di cibo nocivo. Sono queste le ipotesi di reato. Solo l'autopsia chiarirà o meno il collegamento tra il decesso, un decesso che c'è stato appunto nelle ultime ore nella casa di riposo, e la serie di malori registrata alla De Benedictis. Avanti ancora il nuovo AD glissa sui conti della Team. Pelagatti promosso in ecotedia al posto di Ranalli. Brindate tutte le informazioni di interesse pubblico. E poi per la politica scattati i riposizionamenti nel Partito Democratico. I renziani costituiscono un comitato con Manola Di Pasquale, Orlando Abbellante con Renzo Di Sabatino. E poi sul fronte emiliano, l'altro fronte, il terzo fronte all'interno del PD, tra i candidati ufficiali alla segreteria, è l'unico a non avere appoggi ufficializzati, forse Gianguido D'Alberto. Sul fronte rimpasto di giunta a Teramo, la prima data utile potrebbe essere lunedì 20 marzo. Oggi tavolo politico informale per fare il punto sul nuovo esecutivo, l'ufficialità prima del Consiglio Comunale del 21 di marzo. Ponte San Gabriele, sempre a Teramo, osservato speciale sopra il luogo dei vigili e comune, dopo la segnalazione di un giunto dilatato, pronti 6 milioni di euro. avanti ancora con le pagine della città, siamo in provincia, in particolare ad Alba Adriatica, minimarket ripulito in una notte, ladri in azione al ferro di cavallo, portati via anche frutta e verdura. Nei giorni scorsi rubato anche il televisore usato per vedere le partite allo Juventus Club. Poi ancora a Giulianova, caos scuole, nuovo stop al trasferimento a tre giorni dallo spostamento, i risolti problemi sul trasporto degli studenti, i ragazzi e le ragazze della scuola media, paliacetti costretti ancora a fare i turni pomeridiani. Poi in basso, Ruffini lancia la campagna, cammina e pulisce, appuntamenti fissi ogni mese con la marcia per raccogliere i rifiuti nelle strade. Ad altri poliziotti aggrediti da un rifugiato nigeriano prova a scappare durante l'identificazione, denunciato per violenza e lesioni. Due poliziotti aggrediti hanno riportato ferite guaribili in 15 giorni. Quindi proseguiamo e andiamo alla pagina di Silvi. Lo storico voto in Consiglio Comunale PRG approvato sacrificando la sinistra. Il piano passa con il sostegno del PD, la sinistra vota contro e sancisce l'uscita dalla maggioranza. Momenti di tensione, ad inizio seduta è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma. Il consigliere d'opposizione Enrico Marini, che si è speso per l'approvazione del documento, cambia idea e vota contro. Mentre a Pineto c'è il via libera alla riqualificazione del campo Druda. Andiamo nelle pagine dello Sport. Ugo Lotti, tecnico del Teramo, col dubbio play. Amadio O'Carraro, il tecnico sembra confermare il 5-3-2 delle ultime settimane. Problemi per Imparato e Petrella. Gioca Scipioni. Messe decisivo quello di marzo, da domenica inizia un trittico decisivo per il futuro del Teramo. La gara col Gubbio anticipata alle 18.30. Inizialmente era calendarizzata per le 20.30 del 19 di marzo. In conferenza stampa, l'allenatore Guido Ugo Lotti cerca di tenere carico e sereno l'ambiente. La classifica è brutta, ma ci deve dare lo stimolo per fare bene da qui in avanti. Allora, ascoltiamo le parole dell'allenatore del Teramo. E' indubbio che noi tutte le partite le prepariamo per fare risultato. Abbiamo lavorato bene, sono contento, abbiamo qualche acciacco, però questo non mi preoccupa, nel senso che quelli che ho a disposizione sono motivati. Sappiamo che è una partita in meno, di conseguenza dobbiamo darci sotto, perché dobbiamo cercare di andare a fare un risultato, sapendo che di fronte troveremo una squadra che ha delle ambizioni diverse dalle nostre. Se andiamo a vedere, cominciano a mancare poche partite alla fine. Ogni partita diventa una finale, tutte le partite sono determinanti, anche quelle che abbiamo già giocato. E' normale che più vai avanti e più i punti pesano, perché le altre ho visto che continuano qualche d'una a fare risultato, di conseguenza non dobbiamo perdere terreno, cioè ogni partita per noi deve essere l'ultima partita. Questa settimana abbiamo provato anche a giocare con un sistema di gioco, visto che abbiamo qualche defezione dietro, di conseguenza dovremmo essere pronti sia a giocare in una determinata maniera che in un'altra. No, non è una questione, secondo me è una questione di mentalità. Piano piano stiamo crescendo, anche se gli ultimi risultati non sono risultati positivi, però piano piano la squadra, secondo il mio punto di vista, sta crescendo. Io mi aspetto sempre dei miglioramenti. Poi il sistema di gioco lo fa la volontà dei giocatori. Ma imparato oggi abbiamo un problema al tallone. Stiamo valutando, perché ieri ha interrotto la partita, oggi non si è allenato, stiamo cercando di fare le cure, perché avendo anche caidi squalificate è normale che dietro non siamo numericamente molti. Di conseguenza dobbiamo un attimino recuperare un po' tutti. Vediamo domani mattina. La decisione la prenderemo domani mattina. Petrella non si è allenato neanche oggi, ha ancora fastidio, di conseguenza penso che non sarà della partita. Carrara ha grandi qualità. È normale che giochi in un ruolo particolare, perché io all'inizio l'ho provato dietro, diciamo, nella prima partita, dietro la punta, però ultimamente poi guardando e analizzando un pochettino il suo comportamento, è un giocatore che è molto bravo tecnicamente, è un giocatore che ci può dare una mano in certi momenti quando probabilmente dobbiamo aumentare un pochettino la qualità in determinate zone del campo. Sicuramente. Io sono soddisfatto. Chi non ha giocato fino adesso mi auguro che si faccia trovare pronto. Ma gli avversari sono una buona squadra. Io ho guardato diverse partite, andando indietro addirittura fino alla partita che hanno giocato con il Padova, perché per vedere un pochettino come si sono comportati contro tutti i moduli di gioco che le varie squadre di questo giro ne affrontano. È una squadra che aggredisce, è una squadra che gioca in un campo molto grande dove ci sono ampi spazi e dove giocare, se uno ha la tranquillità di poter giocare, c'è la possibilità di giocare. Però sicuramente è una squadra che ha delle buone individualità. Andiamo a chiudere con le pagine dello sport di Centro e Messaggero. Quello di oggi è anche il giorno di Karim Abdul-Jabbar a Pescara. Ecco qui il mito del basket. Obama, l'Islam e la storia. Pescara ha lezione da Jabbar. Sbarca a Laurum la leggenda dell'NBA per l'Oscar Pomiglio Bloom Forum. Il baseball primo amore, ma ero troppo alto. E ho iniziato con la palla canestro. E poi la testimonianza di diversi atleti. Tra ricordi e aneddoti anche le stelle abruzzesi a bocca aperta davanti al suo gancio cielo. Le parole del terramano Marco Mordente. Da bambino aveva le sue scarpe. Un personaggio incredibile, grande uomo a prescindere dal basket. Poi l'ex azzurro Ivan Bisson. Rolo straordinario il suo perché di pivot così non ce ne sono più. Era molto tecnico nonostante la sua notevole statura. Poi i teatini Claudio Capone e Stefano Mancinelli. Capone dice giocatore immarcabile. Mi svegliavo di notte per vedere le finali playoff tra Los Angeles e Boston. Il suo gancio. Il gancio è il suo marchio inconfondibile. Le parole appunto di Mancinelli. Nella top 5 dell'NBA. Giocatore unico. Uno alto 220 centimetri. Con quella tecnica è impossibile nel basket d'oggi. E poi il pescadese Stefano Raiola. Avevo 10 anni e guardavo le sue partite su Tele Capodistria. Uomo straordinario. Ha avuto un allenatore che ha lavorato con lui. Un'altra importante testimonianza di un giocatore, di un uomo che ha fatto lo stesso percorso di Jabbar. Quindi abbracciando l'Islam e cambiando nome. L'ex Chris Jackson, poi Mahmoud Abdul Rauf e parla proprio l'ex cestista di Roseto. Dà voce a quelli che non ce l'hanno. La sua visione del mondo dovrebbe ottenere più elogi. È stato fondamentale sotto tanti punti di vista. Forse Karim non ha ancora ottenuto il giusto riconoscimento per i suoi grandi meriti. Io e Jabbar abbiamo in comune non solo il basket e la fede islamica ma anche il desiderio di vedere la giustizia prevalere. E poi ancora passiamo al calcio. La trattativa per la cessione del Fino Pescara. Iannascoli ecco l'offerta ma a Sebastiani non piace. L'ex AD per il 70% propone 6 milioni adesso o 3 in caso di retrocessione. Il socio di minoranza del club mette nero su bianco le sue intenzioni per entrambe le eventualità. Ci sono dei bonus fino a 3 milioni. E invece per quanto riguarda il calcio giocato. Oggi giornata di vigilia di Pescara Udinese. Bovo insidia Fornasier per il futuro c'è Taxidis. Testo positivo per l'ex Torino che prenota una maglia per la sfida contro l'Udinese. Il centrocampista greco è il preferito da Zeman. Piacciono anche Ronaldo e Oger entrambi della Salernitana. E poi in basso per il calcio a 5 Pescara a caccia del riscatto. La capolista della Serie A in casa contro il Kame Dosson. In B c'è Tombesi Venafro. Per la Lega Pro la ricetta di Ugolotti. Giocare ogni partita come se fosse l'ultima. Speranza non è un problema dice Ugolotti. Alla vigilia del match di Bergamo con la Binoleffe. Scipioni è una opzione. Poi ancora per il basket di A2. La Proger fa anche promozione turistica. Ha treviso teatini con prodotti tipici e video per far conoscere l'Abruzzo. Martellossi, coach di Mantova ed ex Roseto. Roseto, che bravo. Fulz. Vediamo ora rapidamente le pagine dello sport del messaggero Abruzzo. Ecco l'offerta di Iannascoli. Il socio di minoranza del Pescara ha messo sul piatto 6 milioni per la B o un bonus da 3. Se la squadra si salverà. Il patron Sebastiani ha tutto il tempo per valutare le cifre. L'operazione riguarda il 70% del pacchetto azionario. Sul fronte del calcio giocato. Ultima chance con l'Udinese. In dubbio Zampano. E poi ancora per la Lega Pro. Ugolotti non cambia il Teramo contro l'Albino Leffe. Balottaggio Carraro Amadio per il regista. Il mister pronte a lottare fino all'ultimo minuto. E poi anche in questo caso sul messaggero la pagina con Karim Abdul Jabbar. Pescara abbraccia Jabbar, mito del basket. L'ex stella dei Los Angeles Lakers. Oggi pomeriggio ospite dell'iniziativa Oscar Pomiglio Bloom Forum all'Aurum. La leggenda, l'inventore del gancio cielo sarà assieme al docente di estetica Pietro Montani. Tutta Europa si collega. Racconterà la sua nuova esperienza da scrittore. Riconoscimenti internazionali. E poi per la serie D. L'Aquila ha ufficializzato l'allontanamento dei sei ammutinati. Recensione di contratto con La Vista, Bonvissuto, Brenci, Russo, Zane e Sembroni. Finiamo qui dunque con la rassegna stampa di mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti con il nostro Tg. Le edizioni principali delle 14, delle 19 e delle 23. Grazie per l'attenzione. Grazie a Maurizio D'Agui e Silvia Gentile. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a Maurizio D'Agui e Silvia.